Buongiorno cittadini, buongiorno e buon fine settimana dal vostro sindaco. Come ogni fine settimana il nostro appuntamento con la diretta per fare il bilancio settimanale dell'azione amministrativa dell'amministrazione Verniso. Prima di fare il bilancio della settimana mi corre l'obbligo di dare ai cittadini sannicolesi alcuni chiarimenti in merito a delle affermazioni fatte sui social da un consigliere comunale di opposizione e quindi io diciamo che mi sono convinto del fatto di dover lasciar perdere di non rispondere sempre a tutti gli attacchi che mi fanno anche insomma le varie cose che mi fanno però quando si affermano determinate cose è bene ed è giusto e cosa buona e giusta diremmo che il sindaco rispondesse a quelle che sono delle affermazioni anche forti per far capire la posizione appunto del sindaco e dell'amministrazione comunale. Contrariamente a quanto sostenuto ovviamente in modo del tutto infondato dal consigliere Francesco Cilento in data 21 gennaio 2022 veniva conferito l'incarico legale con determina numero 2 all'avvocato Daniela Varricchio anche qui insomma si è fatta praticamente una una scritta di due uno sproloquio per poi non concludere nulla ma il senso almeno quello ho capito era che poi Daniela Varricchio era un membro della nostra lista e quindi automaticamente chissà quale reato noi abbiamo fatto a conferire un incarico a lei. Allora voglio chiarire come funzionava prima e come funziona ora. Ora funziona che abbiamo una short lista una short lista vale a dire una lista di avvocati da cui abbiamo fatto un bando ogni avvocato tutti gli avvocati non soltanto quelli del comune San Nicola Manfredi tutti gli avvocati che vogliono appunto volevano presentare domanda di essere inseriti in questa lista lo hanno fatto in tempo utile abbiamo acquisito se avevano noi requisiti e abbiamo fatto questa lista dalla quale noi attingiamo ogni qualvolta c'è bisogno di nominare un avvocato per difendere il comune perché noi nella maggior parte dei casi ci difendiamo non non facciamo come hanno fatto loro cause e poi non ci costituiamo in giudizio cioè prima facciamo abbiamo delle azioni legali poi il comune non si costituiva nemmeno in giudizio cioè non si difendeva e automaticamente non nominava un avvocato automaticamente soccombeva sempre poi con l'aggravante che non avendoci un tetto di spesa alle parcelle degli avvocati ogni avvocato poteva per ogni causa mettere una parcella qualsiasi cioè per ogni causa poteva chiedere qualsiasi somma noi invece abbiamo messo un tetto nel senso che un avvocato prima che cioè nel momento in cui gli conferisce l'ufficio gli conferisce un incarico già sappiamo quanto sarà la spesa quanto sarà la parcella non è che andiamo a così a occhi chiusi e poi a fine causa chissà come mai si faceva in questo modo poi si davano le parcelle eh salate agli avvocati in molti casi amici eh così mh senza nessun tetto e si facevano decine 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 di cause noi in dieci undici mesi di amministrazione abbiamo fatto ci siamo costituiti in giudizio solo per eh difenderci su procedimenti ehm già in corso molto spesso eh con la vecchia amministrazione così come il caso della signora che è stata citata Leo di Monte Rocchetta ecco questo era una un procedimento ehm già aperto con la precedente amministrazione che in cui il comune già era soccombente in primo grado insomma ci siamo a differenza loro ci siamo questa volta costituiti in giudizio cioè abbiamo nominato un avvocato per difenderci in quest'altro grado di giudizio perché non è che dobbiamo perdere così eh perderemo perderemo però abbiamo un avvocato che difende anche le ragioni del nostro comune quindi ehm il consigliere Cilento fa una grande confusione con la sentenza pubblicata inerente al giudizio 4057 del 2021 di cui l'avvocato Varricchio non è a conoscenza perché non era costituito eh appunto in quella procedura ehm con quella che è praticamente la ehm il conferimento che abbiamo dato per difenderci nel grado successivo dicevo Daniele Varricchio era candidata nella nostra lista l'avvocato Daniele Varricchio ma è un avvocato non è stata eletta quindi non è incompatibile è un avvocato fa parte della della short list degli avvocati è iscritta all'ordine in talune ehm cause penso due è stata nominata dall'amministrazione a difendere il comune qual è il problema ma noi abbiamo stiamo adottando il criterio della rotazione possibilmente del nostro territorio avvocati del nostro territorio una volta ha fatto un avvocato una volta un altro una volta un altro ma non sempre lo stesso avvocato e soprattutto sempre con somme grandi noi già sappiamo che per questa causa l'avvocato Varricchio prenderà eh la totta sua cifra mh quindi mh si è voluto montare un caso dove non esiste il caso ehm anche perché il comune deve nominare un avvocato che è di sua fiducia non è proprio nominare un avvocato che non è di sua fiducia ok e la dottoressa Varricchio è un avvocato di mia e della nostra fiducia per ciò che concerne invece il giudizio Faella eh contro il comune di San Nicola Manfredi e qui si è voluto montare un altro caso chissà che ci stava dietro in questa eh in questo giudizio ci sta tra le re di Faella Faella Maria Carmela e Faella Damiana Rosa cioè Faella Damiana Rosa che è la moglie del fratello di mio padre Bonanima quindi è una zia acquisita benissimo eh ho tanti parenti come vedete alcuni si sono pure candidati contro di me quindi figurami i parenti fino a un certo punto vabbè comunque questi signore avevano un giudizio pendente contro il comune di San Nicola Manfredi già da anni non da quando sono diventato io sindaco anzi mia zia è stata danneggiata da me dal nipote perché io ho praticamente fatto fare l'intenzione dell'amministrazione è stata quella di fare una transazione con loro perché sapevamo già che stavamo andando a perdere la causa da lì a pochi mesi tanto è vero e di questo il consigliere Cidento ha fatto finta di non sapere di non non vedere nulla come molto spesso gli capita quello che non gli conviene è stata una transazione assolutamente favorevole per il comune di San Nicola Manfredi tanto è vero che in data 24 febbraio 2022 quindi pochi giorni dopo la sottoscrizione della transazione il comune è stato condannato è stata pubblicata la sentenza di condanna del comune contro il comune che doveva pagare a queste signore 10.000 euro oltre le spese legali a fronte invece della transazione che come amministrazione abbiamo fatto fare con le signori di 2.000 euro cioè noi vedendo che il comune stava per perdere questa causa abbiamo chiamato queste signore abbiamo detto vogliamo fare l'accordo non arriviamo a sentenza abbiamo fatto l'accordo perché mi sono consultato gli uffici legali e mi sono accorto che stavamo per perdere quella causa quindi abbiamo dato l'incarico a questo avvocato abbiamo chiamato queste signore abbiamo fatto questo accordo che l'abbiamo poi portato in giunta fortunatamente perché pochissimi giorni dopo qualche settimana dopo il tribunale ci ha pubblicato una sentenza e si è dimenticato il consigliere Cilento quindi 14 allora con delibera di giunta comunale numero 17 del 14 febbraio 2022 veniva approvato lo schema di transazione il 24 febbraio quindi 10 giorni dopo in tempo in tempo il comune con sentenza inerente il giudizio 1098 del 2019 quindi era un giudizio in essere con il comune da ben due anni prima di che da quando sono diventato sindaco il comune è soccombente per 10.000 euro più le spese legali quindi il comune ha guadagnato minimo 8 9 mila euro da quella transazione che vuoi far credere che vuole far credere consigliere Cilento che cosa ha fatto il sindaco Pinocchio è lei non il sindaco il sindaco è una persona seria a differenza della sua quindi la transazione che è stata fatta che una mia zia acquisita e che c'entra che mia zia ha portato ad acquisire un vantaggio economico per l'ente cosa che stiamo facendo sempre per il nostro comune a differenza sua e di qualcun altro per quanto riguarda invece il compensi inerente dell'avvocato Varricchio lo stesso è calcolato è stato calcolato ai sensi del decreto ministeriale 55 del 2014 in base al valore della causa dichiarato nell'atto di citazione del giudizio in questo caso del 2019 io sono di stato sindaco nel 2021 ma comunque anche aggiungendo il compensa all'avvocato Varricchio il comune ci ha guadagnato con questa transazione la circostanza che l'avvocato Varricchio avesse dei contatti con l'area amministrativa poi un'altra cosa che fa confusione questo signore è la delibera di giunta che la determina noi come giunta ci costituiamo in giudizio in una causa poi è il funzionario dell'area che fa il conferimento dell'incarico all'avvocato con differenza rispetto a prima conferisce l'incarico quantificando già l'importo della parcella all'avvocato questo non era mai accaduto in questo comune per 40 anni abbiamo pagato e stiamo pagando parcelle di migliaia e migliaia di euro perché non c'è stato mai fatto un accordo preliminare nel momento in cui gli si conferiva un incarico all'avvocato noi nel momento in cui conferiamo un incarico a un avvocato facciamo anche l'accordo su quella che è la parcella quindi non possiamo avere sorprese poi alla fine della causa cosa che non facevate voi ripeto e molte volte con cause in cui il comune non si costituiva nemmeno in giudizio vale a dire non si difendeva non nominava un avvocato con un esito sicuro perdente quindi la questione faella maria carmella faella damiana rosa il comune ha fatto la transazione lo confermo dieci giorni prima della sentenza con la quale il comune avrebbe dovuto pagare a queste signore 10.000 euro più le spese legali noi con l'accordo che abbiamo fatto non perché mi era zia quindi ho fatto un vantaggio come sindaco come comune abbiamo dato solo 2.000 euro il 14 febbraio invece di una sentenza pubblicata il 24 di febbraio giudizio andatevelo a vedere tutti perché io porto i numeri e le carte non le chiacchiere di questi signori lo schema di transazione per il giudizio 98 del 2019 quindi era una causa precedente quando io sono diventato sindaco inerente il giudizio 1098 del 2019 il 24 di febbraio è uscita la sentenza che il comune doveva pagare a faella damiana rosa mia zia e faella maria carmella 10.000 euro più spese legali noi il 14 febbraio abbiamo fatto una transazione con delibera di giunta 17 di 2.000 euro quindi c'è stato un risparmio quindi si vergogni consigliere cilento che ogni volta fa vuole far credere chissà cosa non deve far credere proprio nulla piuttosto piuttosto mi risponda come mai se in consiglio comunale noi abbiamo sollevato delle questioni inerenti ha fatto lei il suo nome direttamente io non l'avevo fatta avevo parlato di consigliere comunale che c'erano delle pendenze con i tributi eccetera lei mi ha portato tanti sproloqui che non era così poi perché ha chiesto un appuntamento a me per iscritto per definire le sue pendenze tributarie con il nostro comune perché allora non sono un pinocchio non è bugia quello che dico lei e la sua famiglia avete avete ha scritto lei e io se non non avrei mai divulgato cose pubbliche pubblicamente cose private ma avete o no delle degli atti di pignoramento dei pignoramenti presso terzi quanti centesimi avete pagato di tributi fino ad oggi realmente al nostro comune così ce lo faccia sapere se ci sono ingiunzioni se ci sono pignoramenti se ci sono altre cose o pagate regolarmente poi inizia a preparare perché le intenzioni dell'amministrazione degli uffici competenti un po' di carte come avete avuto altre situazioni altre situazioni per il passato lotti come avete fatto delle costruzioni dovrete preparare un po' di carte perché il comune l'amministrazione vuole sapere probabilmente state tutti in regola e ne saremo felici e lo diremo perché avete fatto voi consigliere questa ha fatto lei questa insomma ha dichiarato queste cose perché le cose private non vanno mai dette a differenza di quanto fanno altre persone insomma che mettono in mezzo le cose private comunque vogliamo avere un po' le idee chiare di come si sono svolte da lune cose per il passato quindi a breve chiederemo conto di queste cose chiederemo conto degli oneri chiederemo conto di tante cose perché è giusto visto che lei mette in dubbio la buona fede la la correttezza del sottoscritto dell'amministrazione è giusto che si faccia un un diciamo così un ci si fa venga svolto un quadro così un poco abbastanza completo della situazione quindi detto questo l'abbiamo le ho risposto che il comune ci ha guadagnato come sempre ci sta guadagnando da quando ci sono io non ci ha rimesso nulla a fare quella transazione anche se quella è una mia zia acquisita di una causa che già era in corso e tutta la luce del sole e tutte le gite e poi questa signora leo che non conosco nemmeno di nativa di monterocchetta ma non più residente qua c'era una causa dove non c'eravamo nemmeno costituiti in giudizio e anche in quel caso io prima di pagare ho voluto fare costituirmi in giudizio ho voluto che un tribunale si pronunci in merito a questa situazione quindi ho nominato l'avvocato daniele da varicche come giunta comunale abbiamo nominato cioè come giunta comunale ci siamo costituiti in giudizio poi il funzionario ha nominato come avvocato daniele da varicche professionista stimata appartenente alla short list che abbiamo del comune iscritta all'ordine senza nessuna diciamo incompatibilità non essendo consigliere comunale soprattutto non avendo nessun requisito non avendo nessuno degli impedimenti previsti dal dal bando per la short list quindi a tutti i regoli con i pagamenti eh dei contributi tutte queste cose qua perché altrimenti noi non possa il durco tutte queste situazioni da la la cassa forense a tutti i regoli e quindi può svolgere l'attività di avvocato per conto di un ente pubblico quindi qual è il problema e soprattutto ha sottoscritto una un impegno con una parcella che è per la per le cause che fa per il comune quella e quello sarà dato non non ci saranno sorprese successive detto questo solo come risposta visto che sono stato chiamati in causa è giusto che i cittadini sappiano eh vi faccio brevemente una cronistoria di quello che è successo in questa settimana che si continua con l'estate san nicolese abbiamo fatto svolto l'estate san nicolese a san da capoluogo a santa maria toro con il bellissimo appuntamento con francesca maresca maestro quadrini ieri abbiamo fatti i confiabili a santa maria in grisone stasera ci sarà la festa a santa maria in grisone il ventiquattro e venticinque agosto a monte rocchetta il ventotto agosto a palati il mh due settembre il agli annassi il tre settembre a pagliare il concerto di paolo meneguzzi il quattro settembre sempre agli annassi con valternudo il dieci settembre chiuderemo sempre agli annassi con un gruppo locale musicale locale detto questo abbiamo svolto in questa settimana che sono svolto i lavori così come previsto al campo sportivo comunale vittorio parrella abbiamo avuto un finanziamento di circa un milione di euro per la demolizione e la ricostruzione dell'asilo l'ex scuola elementare di santa maria in grisone abbiamo emanato il bando per l'avviso per avere per la scelta la selezione del di sei rilevatori per svolgere il censimento lungo il territorio abbiamo pubblicato il bando per le librerie per i buoni libro abbiamo svolto quelle che sono gli allacci per la corrente l'acqua a contrada e annassi per la collocazione della casa dell'acqua che se Dio vuole tra lunedì martedì massimo mercoledì sarà collocata sulla strada lì a agli annassi e quindi per il fine della prossima settimana speriamo di inaugurare finalmente la casa dell'acqua agli annassi e poi a ottobre la faremo pure a Pagliara lo faremo quando tornerà delle vacanze la consigliera comunale Anna Toro che ha molto voluto questa 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 casetta dell'acqua e quindi è giusto che sia presente all'inaugurazione perché Anna Toro fa parte integrante ed è in piena a pieno titolo appartenente a questo gruppo consigliare a questa maggioranza consigliare facciamo gli auguri all'assessore Nicola Pennucci per il suo compleanno così come gli auguri di buon diciottesimo compleanno al giovane Antonio Verdura di San Nicola Capoluogo facciamo le condoglianze della famiglia Morante pescatore curatolo per la perdita della sua congiunta e la loro congiunta Elia questa mattina ho fatto visita alla Salma detto questo vi ringrazio a tutti e vi saluto e vi auguro buon fine settimana estivo ancora degli ultimi di agosto vi ricordo l'appuntamento stasera con la festa Santa Maria in Grisone non mancate se sarà liscio e musica in piazza Rossi e vi ricordo gli appuntamenti poi palati 28 agosto cioè scusate 24 e 25 agosto Monte Rocchetta 28 agosto palati 2 settembre settembre gli annassi con un gruppo musicale 4 settembre gli annassi con un liscio in piazza balli in piazza e con la presenza di Valternudo 3 settembre Pagliara con il concerto live di Paolo Menecuzzi e 10 settembre con la conclusione dell'estate san nicolese sempre con agli annassi con un gruppo del posto ricordo infine che la venuta di Beppe Convertini con Linea Verde Italia per far conoscere i prodotti tipici della nostra zona di Monte Rocchetta dove faremo visita alle aziende del posto di Monte Rocchetta grazie a tutti buon fine settimana